cari amici di youtube ciao a tutti da Nat ciao a tutti da Juicy oggi vi vogliamo parlare del talent dei talent ovvero amici che ormai è nella versione 2018 oggi pomeriggio ci è capitato di guardare il daytime di questo di questo talent associandolo alle vecchie puntate anche le dirette che si vedono sabato sera non abbiamo potuto fare a meno di notare una certa situazione che ci lascia un pochino perplessi nello specifico nella puntata di oggi abbiamo visto alla comunicazione ai ragazzi delle casette che ci sono diverse case discografiche che sono intenzionate ad instaurare dei rapporti di collaborazione con gli artisti nello specifico i cantanti ora fin qui niente di male anzi è una bellissima cosa io direi è lo scopo del talent tutto sommato fare crescere queste persone se non fosse per il fatto che tutti i cantanti hanno avuto dei contatti con le case discografiche tutti ad eccezione di uno matteo matteo avete presente il ragazzo pugliese con quella bella voce profonda diciamo secondo noi a livello tecnico può essere anche uno tra i più bravi nella scuola di amici io non sono per niente d'accordo perché matteo è l'unico che veramente sa cantare sa cantare senza falsificare la voce con l'autotune che come avete potuto vedere imperversa ormai nelle performance di mezzo mondo come abbiamo visto irama stona e inar stona biondo non ne parliamo le uniche che si salvano un pochettino sono le due ragazzine emma e carmen assolutamente possono salvare ma l'unico che spicca di più come voce e come talento è senza dubbio matteo che è stato l'unico che non è stato contattato da nessuna casa discografica e questo ci fa capire evidentemente quanto ormai è marcio il mondo della musica il mondo dei talent perché non serve essere einstein per capire per farvi un esempio biondo è stato quello che ha avuto più contatti ben tra i case discografica e stiamo parlando della warner stiamo parlando della sony e stiamo parlando di un'altra che non mi ricordo però sta rifatto multinazionali della musica hanno contattato biondo vogliono fare delle collaborazioni con biondo e ragazzi biondo è un personaggio tanto di cappello e biondo ed è acclarato come diceva durso ma non venitemi a dire che un cantante autotune non autotune parliamoci chiaro ormai funziona tutto così come dice latina business business esclusivamente business il che non si sarebbe niente di male se non fosse che poi quando vediamo un artista bravo e talentuoso come matteo che lo vedi che si impegna che studia che si applica giorno dopo giorno viene a tutti gli effetti sfanculato dalle case discografiche infatti dopo il daytime di oggi l'abbiamo visto mesto è molto deluso è molto amareggiato che si è ritirato nella sua stanzina i suoi compagni dicevano però è brutto e in effetti anche noi mentre guardavamo il daytime abbiamo detto però pensa come si deve sentire di merda quel povero matteo perché è bravo ora io non dico chiamate solo matteo e gli altri snobbatevi assolutamente no però sarà che tre case discografiche mi devono chiamare biondo perché fa cioè ragazzi è uno un bravo talento come può essere matteo si trova lì e lo vedevi lo vedevi durante il daytime man mano che li comunicavano ai vari cantanti i contatti il suo sguardo diventava sempre più cupo fino a quando la comunicazione è finita e sto matteo si è guardato come per dire ma a me non mi si incula nessuno e purtroppo è successo questo ora è una situazione che secondo noi è vergognosa ovviamente questo è il nostro pensiero vi invitiamo poi nei commenti a dire anche cosa ne pensate di questa cosa a dire il vostro pensiero su amici su un talent che noi l'abbiamo visto fin dall'inizio non ci siamo persi un'edizione è sempre stata una figata pazzesca amici l'edizione dell'anno scorso già cominciava a vacillare ma questa edizione ragazzi io non ho mai sentito tante stonature come quest'anno io ti do pienamente ragione anche perché qui voi non lo sapete ma abbiamo un compositore musicista anche se non sembra però lo è non sembra quindi non ho la faccia da compositore musicista io sono più pazzo di mozzer quindi lui in questo argomento è molto molto afferrato e poi anche magari chi non ha una conoscenza musicale se ne accorge se ne accorge se una persona è stonata va fuori tempo eccetera eccetera ragazzi non serve essere un musicista compositore per capire quando un cantante stona o non prende la battuta o va fuori tempo ecco io appunto sono molto arrabbiata mi dispiace molto per matteo perché è l'unico che merita il podio assolutamente e siccome il mondo sta andando al contrario io sono davvero arrabbiata ragazzi fatecelo sapere nei commenti se anche voi pensate che matteo possa essere uno dei possibili vincitori ragazzi veramente il mondo sta andando al contrario fateci caso è tutto il contrario di tutto non va bene ma dove andremo a finire fatecelo sapere voi un bacio da giusi un bacio da nata ciao 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 ciao